ringrazio a queste autorità presenti e presezionate per maggior parte del luogo della Quindi, che ne abbia detto già che non si tratta l'epoca di un istante, non si tratta di un istante, non si tratta di un istante. Non non si tratta di fare ma un istante, non si tratta di un istante, non si tratta di un istante. E' una cosa che non è una cosa che è. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.